Buongiorno bambini, cero vecchi, benvenuti sul bario pattinario, oggi faremo un'avventura su tutti i videogiochi Ma sai che anche gli adulti potrebbero guardare questi video, non dire bambini, dice anche bambini, per esempio adulti Capito? Perciò dobbiamo invitarli a tutti i bambini, oppure tutti gli adulti per andare con i tutti i bambini Mamma mia, questo coso c'è, un po' di sfuggire? No, fai Sei il primo di entrare? Dov'è entrato? So stupido Tom Oh mamma mia, sono per invigliare loro Dov'è finito Todd? Oh mamma mia, ok ok, ora vi ti, mi, mi, mi e so, so oh, oh la pesca no No, no, qua io penso, oh no, ho sentito un bel video, e comunque adesso dovremmo fare un video gioco, vabbè non fai niente.